ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video questa è una ricostruzione fatta mia mamma già il medio l'anulare ho applicato il colore praticamente ho mischiato il poison black con un gel normale quindi lo potete prendere il costruttore o come vi pare l'ho miscelati per fare tipo effetto calza non mi è venuto tanto bene perché soprattutto in queste due dita ho utilizzato un altro gel ma se vede che mi si era rovinato un gel vecchio proprio che non usano manco delle clienti ovviamente non mi piace tanto l'effetto effetto calza come mi era venuto una volta avevo provato a fare un effetto calza e mi era venuto veramente veramente bene però va bene a parte questo comunque ho voluto il colore nero quindi il poison black di passioni unghie su tutte le unghie solo ecco come vi ripeto che il medio interno anulare ho fatto questo effetto calza poi andrò a utilizzare questo pennello fino che vedete sull'anulare sul medio e faccio una specie di archetto laterale dell'unghia solo nero e c'è tutto di nero dopo la rimane insomma col trasparentino lì che vedete effetto calza in più io andrò a decorare quelle due unghie dove ho fatto l'effetto calza con il don perignon sempre di passioni unghie che è tipo champagne assumiamo molto lo champagne e una specie di fogliolini insomma diciamo ricamino insomma ecco ricamo poi infine ho usato l'isigloss di passioni unghie e l'olio cuticoli niente spero che vi piaccia fatemi sapere sotto il video cosa ne pensate di questa nell'art niente vi lascio al video e noi ci vediamo presto alla prossima un bacio ciao 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 ciao